Come il prof pensa di spiegare? La fisica è una scienza della natura Come la senti tu? Ma che cazzo stai lasciando? Ma che cazzo stai lasciando? Sono un po' orecchie Come la facciamo? Ok Come si vede la tua prof Buongiorno ragazzi Come la vedi tu? Buongiorno ragazzi Senti suggerimenti dei tuoi compagni Non capisco Una cosa Non c'è un po' orecchie Senti che io senti un cazzo Senti un cazzo E come ti sente il prof? La soluzione corretta di tutte le domande è A A B C B C B A B C B A B C B A Adesso basta Buongiorno ragazzi Ma me l'ha ancora fatto a sentire la musica Piva un cazzo Cosa pensi che il prof ha detto in testa mentre ti intervano? Maldonati Adesso ti distruggo E giuro che non te ne andrai da qui fino a quando non avrai preso due Sono messa di niente Ma a che ora c'è il termine? Sì Alle sette? No no aspetta No non era alle sette Era alle nere Ah sì Alle Le ha otto Che be' Cosa? No 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 ma l'hai Lei due Ma come buono che non mi vuolta a due? Ma mi metta a tre anni Non mi metta a tre anni Ma che male? Non le posso a più ma tenita di merda Ma come che si ti prende in giro il terzo prof Bene ragazzi Oggi vi insegnerò la teoria evolutiva di Dara Allora Bene ragazzi Oggi vi insegnerò la teoria evolutiva di Dara Allora огhey 21 Gennaro Mi안 Getting a morista Due più fria Giugni 44 ransa Giugni sette Giugni Signore Ediente Reggi indicate Oggi interroghiamo... Ma chi interroga? Non c'è un nome di parte. Vediamo se è sicuro. Marangelo! Eh ma che padre, ho sempre io, non so niente! Benissimo. No, ma io volevo giusto. Adesso riprendiamo le lezioni. E anche a questo giro me la sono scampata. Grazie Marangelo, grazie! Come si vede da Cattolese? Hello, how are you? The fan is on the table. Come la vedi tu? Oh, I like you. Come here, here's me. Come si vede il suplente? Buongiorno, io sono il vostro suplente. Ma mi prenderò al 100% per inculcare nelle vostre peggere menti ma preciso conoscenza della genica. Avete capito o no? Sì, no! Come la vedi tu? Buongiorno, io sono il vostro suplente. No! 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 Tu dovevi si piesserebbe interrogazione. come teori di teorizzare l'esistenza del Warhol fu Ludwig Frehm nel 1916. In questo senso, l'ipotesi della gialleria gravitazionale è un'attualizzazione della teoria ottocentesca della quarta emissione soluzionale la quale sottoneva una protezione spaziale che aprevia se le distanze o le distanze e così è tutto Come ti vede la prof? Ah, in prima del teorizzare il mucio scienziato ha trattezzato la cosaglietta per dire un mille cento e qualcosa i primi anni prima te lo avuto però è dove andro spazio si si... se lei adesso oggi ho detto mi trovo un sacco perché ce la ce l'è... No, non vuoi che io... E zitta! Come piaci di trollare il prop? Due, il tempo resta avuto, appuntate la penna sul tavolo e consegnate il compito. Troppo tardi, non c'è niente. Maggiorno, puoi riprovarci la prossima volta. Affalito. Mi spiace. Scusi, lei sa che sono io? No, non ne ho mai niente niente. Assurdo. Come va realmente? Troppo tardi, non c'è niente. Maggiorno, puoi riprovarci un'altra volta. Affalito. Mi spiace. Scusi, lei sa che sono io? Gli appoglannati, 19 anni, gli abbiamo i 17 maresi e adesso si toglie la riposta. Grazie. 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 Noi vi ringraziamo tantissimo e ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e un saluto a tutti e comunque siete bocciati, quindi fuori da me, sono i bocciati che vi facciamo la superiore ancora, siete bocciati via via, fuori da me, fuori da me, fuori da me.